Terni necessariamente è depressa naturalmente, ma anche nell'Umbria stessa. Io sono arrivato qua da storico dell'arte, oriundo milanese, e tra virgolette ho inciampato in questa scoperta straordinaria. Poi siccome parlo di me stesso, ne parlo in terza persona, ma ci rendiamo conto che c'è uno studioso che a Terni ha protocollato a livello ministeriale una scoperta che riguarda Leonardo da Vinci, benissimo tutto, ma Leonardo da Vinci è un brand mondiale, e io vi dico una cosa, a New York non sanno cos'è la cascata delle marmore, se noi andiamo sulla Fifth Avenue e diciamo cascata delle marmore, non sanno che cos'è. Ebbene che qualcuno apra gli occhi su questa cosa. Poc'anzi, iniziano la parola di Dio, mi ha fatto vedere un articolo sul messaggero nazionale che parla delle cascate nazionali, e non viene minimamente citata la scoperta di Leonardo, quando il messaggero ha una relazione della parola di Dio, però vi dico anche che Terni, come giustamente diceva l'assessore alla cultura, deve fare sistema, ma deve fare sistema davvero dalle scuole al sindaco, dai ragazzi di sei anni fino al sindaco, ma tutti, ma anche i giornalisti, ma anche i giornalisti, l'altro giorno ci sono giornalisti che hanno guardato ai dettagli non usciti di un qualcosa che è stato straordinario, invece di evidenziare quello che diceva Vittorio Scarbi, dicendo la cascata delle marmore può diventare simbolo dell'Italia, ma stiamo scherzando. Io ve lo posso dire, ci sono troppi campagnolismi in Terni, a Terni, a Terni, a Terni, ad esempio